Controllavano ogni 10 secondi l'acqua per vedere se saltava il contatore, al momento che non è saltato il contatore si è capito che era riallacciato. Risolta dalla Feder Consumatori Arezzo la vicenda della coppia di anziani fratelli a cui era stata ridotta fortemente la potenza dell'utenza elettrica per via del cambio del gestore, gestore del quale però non si conoscevano i dati. Grazie all'intervento appunto di Feder Consumatori la vicenda è stata risolta ma lascia comunque un grande amaro in bocca. Lascia tanto amaro in bocca e lascia anche tante conseguenze perché oltre al fattore proprio primario di acqua, luce, di tutto ciò che non potevano fare, c'è anche un problema morale per loro. Il caso è emblematico e grave allo stesso tempo, il cambio di gestore era stato effettuato con un contratto telefonico facendo semplicemente poche domande all'anziano zio ma senza chiedere dati sensibili come ad esempio il pod o il pdr, cioè l'indirizzo fisico della fornitura che solitamente è riportato in fattura. Un'attivazione dunque con un semplice sì al telefono come ne capitano a migliaia. Hanno 80 anni, si sente in colpa, ma io ho fatto, ma non ho fatto, non riesce a darsi pace per quello che è successo perché sono stati veramente 15 giorni pesanti. Al terrore del telefono, cioè quando gli squilla il telefono vedi che diventa rosso in faccia, non sa quello che fare. Le bollette erano però arrivate al vecchio indirizzo della coppia di fratelli e quindi non erano mai state pagate. Feder Consumatori si è rivolta ad Arera e in 15 giorni la corrente è stata ripristinata e le bollette annullate. Ma l'associazione di consumatori non si fermerà qui. Andiamo avanti perché dubbiamente ci devono dire, se non lo diranno a noi, lo diranno all'autorità garanti, come sono venuti in possesso i dati personali di questa persona che sono riservati. Ci devono dire che tipo di contratto hanno in mano e poi andremo alla Procura della Repubblica, estorsione di dati personali e, quantomeno, interruzione di pubblico servizio. Lo facciamo semplicemente perché, come si diceva prima, questo è un caso emblematico. Dietro questo caso ce ne sono centinaia e centinaia. Verrà chiesto anche un incontro ai neoparlamentari eletti perché sostiene Feder Consumatori ci sono delle importanti falle normative. Eppure c'è un codice per la privacy, un garante e oggi anche un registro delle opposizioni dove si può chiedere che il proprio numero di cellulare non venga vessato di chiamate. Il registro delle opposizioni potrebbe in qualche modo alleviare casi di questa natura ma occorre fare una procedura perché non è che con il registro delle opposizioni bisogna fare una domanda per essere iscritti in questo registro e ovviamente su questo registro fare eliminare tutte le chiamate che secondo noi non vogliamo ricevere. È un aiuto ma non è quello che sarà risolutivo.